Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti ci si sente da Amsterdam dalla Bitcoin Conference e ragazzi non ce la facevo a lasciarvi da soli in una giornata come oggi ricca di emozioni forti non tutte bellissime ma ne parliamo bene perché le cose potrebbero non essere come sembrano quindi prima di strapparvi i capelli aspettate ascoltate bene tutto quello che ho da raccontarvi oggi perché facciamo la nostra analisi sui postumi oserei dire da dati del CPI americano quindi postumi da inflazione superiore alle aspettative vediamo come stanno reagendo i mercati come cambiano le prospettive future anche riguardanti i prossimi aumenti di tassi di interesse i possibili impatti che essi potrebbero avere sul mercato e facciamo la nostra solita disamina delle notizie più importanti di questi giorni in cui vi ho un po' abbandonato lo ammetto ma mi farò perdonare noi ci rivediamo vi ricordo a pieno regime da lunedì quindi non mancate state sempre sul pezzo non abbassate mai la guardia perché sono giorni molto interessanti guardate la candela di oggi sta diventando interessante ed è proprio da questo che voglio partire dopodiché facciamo anche una bella panoramica sulle altcoin che sono quelle che hanno sofferto di più non so se avete notato il dump delle alt anche contro BTC in questo periodo c'è un trend della dominance di bitcoin crescente lo abbiamo osservato anche nelle scorse analisi ed è importante seguire anche queste cose perché una sovraesposizione in altcoin in periodi storici come questi potrebbe portare danni notevoli al proprio capitale quindi insomma è giusto anche osservare i trend del mercato altcoin che è un macromercato che si muove di fatto all'unisono lo abbiamo visto iniziamo subito con l'analisi di bitcoin pre e post dati sul CPI siamo arrivati al momento fatidico di oggi quindi le 14.30 che tutti aspettavano con ansia tutti lì a refresciare twitter a refresciare la nostra fonte di informazione preferita per vedere non appena uscivano i dati come reagiva il mercato c'è stata un'isteria di massa tra l'altro è divertentissimo vedere guardate che storia come si muove il prezzo appena prima appena dopo guardate che cosa assurda appena prima c'è stato un piccolo pump cioè in realtà ci siamo arrivati in maniera abbastanza pessimistica il mercato prezzava già un 8.1 esatto prevedevo un 8.1 l'esito è stato 8.2 leggermente superiore alle aspettative ma di fatto diciamo che possiamo dire che bene o male siamo lì nell'intorno delle aspettative ahimè non cioè è un dato comunque inferiore al mese precedente il dato anno su anno vedete eravamo 8.3 siamo scesi 8.2 tuttavia stiamo scendendo con una velocità ben inferiore al previsto e la cosa più preoccupante se vogliamo è il CPI core quindi quel dato sul CPI che va a tirare via la parte più diciamo volatile quindi cibo ed energia tendenzialmente e vedete che questo questa componente la componente core del CPI è in crescita e ha raggiunto nuovi massimi siamo al 6.6 quindi qua non benissimo anche le previsioni erano comunque di una crescita i massimi precedenti li avevamo ad aprile 6.5 le previsioni erano sempre di crescita ma la crescita è stata leggermente superiore al previsto come vi dicevo siamo arrivati al momento del dato con estremo pessimismo subito prima vedete che c'è stato questo piccolo pump ma bisogna fare attenzione perché si aprono posizioni speculative prima e dopo c'è chi fa degli spread trade chi fa dei trade appunto sulla volatilità quindi quello che consiglio tendenzialmente è di fare attenzione a cercare di capire nel momento stesso quello che potrebbe succedere perché non è sicuramente il movimento impulsivo al secondo che ce lo dice infatti molto spesso si vedono dei falsi movimenti che poi vengono immediatamente riassorbiti per poi venire ancora magari riassorbiti nei minuti o nelle ore successive vedete questi andamenti sono estremamente anomali infatti tradare queste notizie tradare questi eventi diciamo che include tutta una componente di aleatorietà difficilmente gestibile tranne se non si ha una strategia ben precisa magari proprio che punta sulla volatilità o comunque ecco non direzionale altrimenti rischia di diventare un po' il lancio di una moneta bisogna fare molta attenzione il grafico giornaliero è molto curioso perché guardate la candela di oggi la candela di oggi è un ad ora adesso dobbiamo vedere chiaramente come chiude però per com'è configurata ora è composta per buona parte da shadow e questo significa un riassorbimento comunque del dump e questa cosa è estremamente curiosa perché? perché di fatto un dato sull'inflazione di questo tipo che fa presumere quindi a un'aggressività della Fed che continuerà adesso andiamo a vedere tra poco proprio le probabilità dei prossimi FOMC di quanto verranno aumentati i tassi e come vedrete c'è ancora dell'aggressività in campo nonostante ciò nonostante il fatto che il mercato è pressoché certo di una continuazione aggressiva da parte della Fed la reazione come vedete è stata sì lì per lì di shock un po' abbiamo avuto un meno 4% ma al momento riassorbita e che potrebbe appunto se la candela chiude bene e poi c'è follow up di domanda potrebbe anche appunto non generare perdite di livelli chiave cosa appunto imprevista magari uno dice aspettavo un disastro con un dato negativo e quindi è interessante pensarci perché bisogna ricordare che il mercato non prezza il presente ma prezza anche il futuro quindi c'è tutta quella componente temporale quella componente di sentiment che è già inclusa nel prezzo e quindi si ritorna a proporre quella fatidica domanda bottom is in sì oppure no io ovviamente la sfera di cristallo non la ho nessuno di noi purtroppo ce l'ha però bisogna considerare non solo il presente nel farsi questa domanda cioè fare l'equivalenza l'inflazione è difficilmente contenibile quindi la Fed continuerà ad aumentare i tassi ancora nelle prossime sedute non significa che per forza di cose dobbiamo continuare a scendere finché ciò accade perché se il mercato sa in anticipo questo e lo dà per scontato allora lo prezza già nel prezzo appunto presente il presente prezza un po' il futuro mentre ciò che effettivamente va a scombussolare di solito il mercato sono le notizie impreviste quindi se appunto tutti si aspettano che le cose vadano male ma improvvisamente vanno bene allora questo genera uno shock positivo e anche al contrario se tutti si aspettano una certa cosa e poi le cose vanno molto peggio abbiamo uno shock negativo quindi consideriamo che finché le cose vanno come la maggioranza dei partecipanti al mercato prevede si rimane più o meno sulla situazione che si è delineata quindi potrebbe essere interessante adesso vedere proprio come reagisce il mercato nei prossimi giorni anche adesso è presto per dirlo una candela non basta ma è già un dato curioso se chiudiamo con preminenza di shadow ripeto e poi facciamo un po' di respiro rialzista è già un dato significativo ma poi c'è da vedere anche appunto quando si stabilizza finita questa volatilità da dati sul CPI il prossimo FONC come dicevamo è tra una ventina di giorni aspettate che ci arriviamo eccolo qua tra 20 giorni esatti e vedete che è pressoché dato per certo parliamo di un 99,8% di possibilità un rialzo di 75 punti base ci sono anche poche possibilità per ora da quanto prezzato dal mercato di un rialzo di 100 e quindi qua attenzione ecco perché se tutti poi si aspettano un più 75 e arriva un più 100 ecco che lì c'è quello shock che dicevamo prima inoltre guardate anche il rialzo successivo quello di dicembre è al momento fortemente stimato verso i 75 punti base quindi altre due botte di 75 punti base che sono parecchio parecchio aggressive se poi le cose rimangono più o meno su questo scenario avremmo nel 2023 finalmente la stabilizzazione quindi un più 25 sul successivo e poi tassi stabilizzati c'è da vedere poi come reagisce appunto l'inflazione che reagisce sempre in ritardo non è che il rialzo dei tassi c'è effetto immediato c'è sempre un po' di latenza della reazione del mercato con il rialzo stesso dei tassi quindi c'è da vedere se continua il trend ribassista del CPI dico continua perché di fatto anche se debole c'è un po' un trend ribassista sta scendendo dei mesi precedenti e si inizia a scendere soprattutto anche il CPI core questo è importante stiamo un po' a vedere intanto vi aggiungo anche una cosa che c'è stato un commento del presidente Biden subito dopo il rilascio dei dati dove è stato detto che guardate che storia questo mi ha colpito un po' no? dicono i report di oggi mostrano del progresso contro la lotta ai prezzi elevati quindi all'inflazione per l'appunto ma abbiamo del lavoro in più da fare cioè non basta quello che stiamo facendo ecco tuttavia qua dice dice anche dei numeri cioè che l'inflazione sugli ultimi tre mesi sull'ultimo quarter è stata a una media annualizzata del 2% sono interessato curioso di capire come l'hanno calcolato e dice che è un abbassamento dall'11% del quarter precedente non lo so mi sembra un pelino ottimista con questi numeri ma e appunto dice che comunque nonostante questo i prezzi sono ancora alti e bisogna mantenere questo andamento e ha iniettato un po' di ottimismo se non altro nonostante dice che l'Inflation Reduction Act continuerà poi a fare il suo corso e a cercare di arginare quello che è proprio l'aumento dei prezzi che è il problema principale negli Stati Uniti non lo so a me sembra un po' troppo ottimista sinceramente ma sicuramente lo sa meglio lui di me io per quanto mi riguarda mi limito appunto a osservare adesso l'andamento del mercato la candela di oggi come chiuderà domani poi domattina ci aggiorneremo e vedremo la chiusura e l'inizio il follow up dell'inizio della giornata perché sono momenti cruciali il supporto a 18.900 è importantissimo ed intorni ovviamente come vedete non abbiamo neanche sweepato il low precedente oggi che si trovava qua a 18.000 circa e questi livelli sono molto importanti perché si sta generando un bel cuscinetto di domanda e se questo dovesse essere talmente forte da rialzare da far respirare un po' poi il prezzo di BTC non sarebbe affatto male Nasdaq anch'esso si è mosso pressoché all'unisono guardate ha aperto molto in negativo e poi ha rimbalzato pazzesco ragazzi pazzesco niente niente da aggiungere se non pazzesco non so se per la dichiarazione di Biden che ha iniettato un po' di positività ma non sembra perché comunque le stime sono sempre di più 75 punti base quindi non lo so non mi sembra che ci sia un po' di anche di di caos non saprei in che altro modo definirlo se non caos all'interno del mercato questi prezzi estremamente volatili difficilmente giustificabili anche a tratti bisogna soltanto osservarli prenderne atto e cercare di capire la struttura che si sta delineando sul Nasdaq la struttura è estremamente peggiore secondo me rispetto a quella di Bitcoin perché abbiamo dei regimi di massimi e minimi decrescenti anche sul breve mentre su Bitcoin sul breve siamo perlomeno in lateralità a meno che appunto non andiamo a violare proprio quest'area curiosità vi dico una piccola curiosità così giusto per chi fosse interessato a qualche numero sulla storia guardate il Nasdaq oggi ha toccato quando è sceso aspettate che eccoci ci siamo tac vedete questa zona di minimi ha toccato livelli pari a luglio 2020 e Bitcoin a luglio 2020 quindi quando Nasdaq era a quei livelli lì ricordiamo che facciamo questo discorso per un tema di correlazione che ultimamente c'è sempre stata Bitcoin era tra gli 8 e i 10.000 quindi nel frattempo Bitcoin ha fatto diciamo rispetto al Nasdaq ha avuto quella miglior performance ora vediamo come si stabilizzerà la situazione bene poi altcoin altro capitolo un po' sanguinoso oserei dire perché guardate che roba allora partiamo dalla dominance questa è la dominance pulita nel senso con aggiunte le altcoin le stablecoin scusate per evitare proprio che gli afflussi di capitale verso le stablecoin diano dati falsati e abbiamo vedete un trend comunque rialzista adesso le medie mobili le avevo cancellate temporaneamente ma anche esse stanno costruendo un ribbon rialzista cioè di fatto la breve è sopra la media è sopra la lunga e così via quindi abbiamo una situazione di uptrend un uptrend nella Bitcoin dominance significa che le altcoin sono a maggior rischio rispetto a Bitcoin performano peggio quindi c'è da fare estrema attenzione a cercare di fare dei buy the dip sulle altcoin perché in caso di strappi di movimenti repentini di Bitcoin che siano a rialzo o a ribasso è molto più probabile che le altcoin performino peggio quindi massima massima attenzione bisogna seguire i trend anche in questo caso perché come sappiamo le alt sono un mercato che va a cicli ci sono le cosiddette alt season con cicli alt BTC positivi e viceversa come adesso dove BTC sovraperforma le alt e noi non dobbiamo andare contro i trend non c'è nessuna ragione di farlo come vedete infatti sono molte sono in ribasso contro BTC alcune di più alcune di meno hanno riassorbito anche loro abbastanza guardate ad esempio Solana era arrivato a perdere il 5-6% contro BTC ha assorbito buona parte vediamo anche qui una bella candela con shadow molto lunga la total market cap infatti era arrivata a toccare guardate quasi il supporto qua sotto il suo low il suo minimo anche attuale di chiusura però di nuovo c'è questa shadow composta non solo da BTC ma anche dalle alt le coppie al BTC insomma hanno assorbito abbastanza bene bisogna vedere una volta che si è calmata la tempesta quindi domani lo vedremo già meglio come si stabilizzerà la situazione fino ad allora le operazioni sono molto rischiose perché c'è una componente caotica nel mercato open interest su bitcoin sempre per parlare di caos sempre in crescita scusate ho sbagliato volevo rimpicciolire un attimo la finestra open interest definito in BTC questo quindi lo so che rispetto ad esempio alle fasi di massimo chiaramente un open interest più alto in BTC vuol comunque dire un open interest minore in dollari vero ma la cosa curiosa è che durante vedete questa fase laterale l'open interest è aumentato praticamente del 30% è aumentato tantissimo quindi c'è veramente un elastico che sta iniziando a tendersi e nel momento in cui questo open interest inizierà ad abbassarsi repentinamente ci sarà il primo squeeze che sarà longo o short vedremo in base alla direzione ma lo squeeze è dietro l'angolo bisogna fare molta 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 attenzione perché è un attimo bruciarsi in situazioni così tese così difficili il movimento di prezzo è estremamente contenuto e la volatilità in quest'ultimo periodo è bassa quindi abbiamo una contrazione contrazione anche in volumi open interest che cresce e è veramente la ricetta per l'esplosione bisogna fare molta attenzione davvero molta attenzione e io sono curioso di vedere questa esplosione in che direzione avverrà ma probabilmente è ancora presto dovremmo vedere volumi che ritornano appunto open interest che droppa qualche stop che salta tutte queste bellissime cose chiudiamo con un po' di notizie interessanti abbiamo l'hack a mango markets non so se avete seguito 100 milioni di hack è una delle principali defi su solana e l'hack è avvenuto manipolando il prezzo di mango di fatto l'hacker è riuscito per un nanosecondo a far pompare tantissimo il prezzo di mango e ha utilizzato proprio il token mango come collaterale per prendere un prestito dalla piattaforma prestito diventato immediatamente insolvente quando il prezzo di mango è tornato alla normalità ma il collaterale in mango non valeva neanche lontanamente quanto la piattaforma pensava e di conseguenza si è creato del debito insolvibile e questo ha creato panico il prezzo del token mango è droppato del 50% e così via poi si è diciamo si è fatto sentire l'hacker dicendo che ha creato una proposal dicendo io vi ripago 70 milioni a patto che utilizzate la vostra treasury per sanare il bad deb e i costi e quando gli hanno chiesto di restituire tutto lui ha risposto mango morto ragazzi questo hacker è terribile no scherzi a parte è stato c'è da imparare perché è stato un errore di pricing un errore di oracolo l'oracolo non dovrebbe prendere il prezzo istantaneo ma dovrebbe utilizzare una strategia proprio per evitare questi wicks questi pump repentini altrimenti si rischia davvero di creare delle situazioni spiacevoli board ape non so se avete visto che il creatore delle board ape è sotto indagine da parte della SEC perché insomma la possibile accusa è di aver venduto appunto delle security in maniera non regolamentata non registrata non in compliance con le le normative SEC e quindi non è un'accusa già formalizzata cioè non è colpevole intendo ma è sotto indagine quindi stanno verificando tale possibilità il token ape non ha reagito proprio benissimo vi tengo in aggiornamento su questo che è importante perché nel mondo degli NFT e dintorni no è utile capire soprattutto adesso che la SEC fa un po' il bullo del quartiere come verranno visti sia gli NFT che i token legati ad essi con diversi contesti possibili poi qua c'è dietro un'azienda no quindi è un po' diverso un po' più facile no da inquadrare come security se la SEC vuole rompere le scatole ma è un precedente importante da studiare perché da qua poi a cascata potrebbe accadere qualcosa di simile con le altre piattaforme del settore quindi metaversi NFT ed intorni poi abbiamo il portogallo che vuole in questa una curiosità così ve la dico vuole reincludere nel 2023 le tasse sulle cripto che non ha mai avuto 28% di tassazione se le cripto sono detenute per meno di un anno quindi per l'operatività speculativa e che dire cambia un po' di roba io mi immagino sinceramente se mi immagino l'Europa in futuro me la immagino tutta molto simile come politica fiscale verso le cripto soprattutto dopo il mica e mi sembra che un po' alla volta stiamo andando in questa direzione cioè non ci sarà più tutta sta grande differenza tra un paese e l'altro almeno questo credo ma lo vedremo intanto vi condivido questa insomma questa curiosità ultima cosa crypto.com ha aperto una sede europea a Parigi Parigi sta diventando un hub molto interessante per le cripto crypto.com appunto ha aperto la sede lì ha investito aspettate che vi dico vi dico quanto 150 milioni mi pare un po' come aveva fatto Sisi al tempo con Binance vi ricordate che il primo paese che aveva scelto era proprio la Francia esatto 150 milioni di euro per appunto creare il suo quartier generale europeo aprire e iniziare le operazioni e assumere persone e così via tutto ciò che ha a che fare con l'espansione in Europa molto bene mossa strategica che anche durante il bear market fa vedere che crypto.com si sta muovendo nel modo corretto quindi non può che farmi contento spero che le aziende operino sempre nel modo corretto senza fare mai passi più lunghi delle gambe amici questo è quanto ripeto occhio a queste ops occhio a queste candele perché oggi domani saranno giorni interessanti vedere una reazione positiva del mercato a una notizia come quella di oggi sarebbe sicuramente un segnale comunque di difesa che si difende bene ecco poi come spesso accade sarà il Nasdaq immagino a trascinarci vedete che ci stia muovendo veramente in parallelo veramente in parallelo il dollaro nel frattempo si è rafforzato visto che oggi euro dollaro aveva toccato nuovi minimi ma adesso anche questo sembra essersi assorbito guardate cioè veramente un po' di isteria c'è nel mercato ed è difficile gestire un mercato del genere quindi attenzione a fare ipotesi e previsioni perché potrebbero venire ribaltate nel giro di poco osservare aspettare che passi la tempesta e vedere un po' come potrebbe essere la situazione secondo voi come sarà voi fatemelo sapere mi raccomando nei commenti che ci confrontiamo io vi saluto perché Amsterdam chiama noi ci risentiamo magari lampo nei prossimi giorni vediamo se riusciamo a tirare in piedi qualcosina qualche aggiornamento altrimenti vi ripeto torniamo sul pezzo al 100% lunedì prossimo amici vi auguro una buona serata e alla prossima